...prima di approvare il rendiconto, prima che venga portata l'attenzione di questo Consiglio il rendiconto, perché nel rispetto del principio contabile e della competenza finanziaria, i pagamenti effettuati dal tesoriere, come in questo caso a seguito di un ordine del giudice, quindi per azioni esecutive non regolarizzate al 31-12, come sono appunto questi debiti che riguardano tutti azioni esecutive, devono essere imputati nell'esercizio in cui sono stati eseguiti, ovvero nel caso in cui appunto si trovano ad essere stati pagati, come in questo caso a fine esercizio, si deve praticamente andare ad approvare, a riconoscere il debito fuori bilancio prima dell'approvazione del rendiconto. Si tratta di debiti fuori bilancio, per cui è opportuno sottolineare che la delibera di approvazione con tutti gli allegati va trasmessa alla Corte dei Conti, così come prescrive la norma. E quindi in ogni caso sarà sempre cura dell'Ende andare a verificare quali sono i titoli sulla base, i motivi per cui appunto ci sono state queste sentenze. Intanto riconoscere le sentenze esecutive, o meglio l'atto di pignoramento che c'è stato presso il nostro tesoriere, è dovuto dal Consiglio Comunale, essensi del 194 del Tuel. I debiti fuori bilancio ammontano a 19.990,85, 13.821,83, 35.045,51, 5.132,85, che trovano ovviamente corrispondenza nell'impegno provvisorio nel bilancio 2021. Quindi vi chiedo di votare debiti fuori bilancio, vi ringrazio. Grazie Assessore. Votiamo allora il primo punto, riconoscimento debito fuori bilancio articolo 194,1, lettera A, tribunale di Benevento, registro 79,2021, rimborso all'unicredit S.P.A., ordinanza di assegnazione, notificato il 9.12.2021. Prego il Segretario. Precediamo con la votazione. Mastella Clemente, Mastella Clemente, Barbieri Italo, Capoana assente, De Lipsis Luca, De Longis, assente, Lorenzo Giovanni, contrario, De Mercurio Adele, favorevole, Stasio Rosa, contraria, Farise Francesco Giuseppe, favorevole, Fioretti Floriana, contraria, Franzese Mara, Giorgione Gerardo, assente, Greco Alboino, favorevole, Guerra Rosario, favorevole, Giannelli Loredana, favorevole, Mauro Vincenzo, favorevole, Martignetti Alfredo, favorevole, Megna Giovanna, contraria, Miceli Angelo, contrario, Miglione Maria Carmela, favorevole, Moretti Angelo, contrario, Ladino Marcello, sì, Anunzio Umberto, sì, Parente Renato, sì, Perifano Luigi Diego, Petrone Luisa, sì, Pigarello Antonio, sì, Piccaluga Luigi, assente, assente, Scarenzi Luigi, sì, Sguera Vincenzo, assente, Tomascello Annalisa, favorevole, Patricchio Maria Letizia, Zanone Giovanni, favorevole, ok, abbiamo uno, due, tre, Sono venti, favorevoli, tre, otto, contrari, vero? Sette contrari, sette contrari e si deve votare l'immediata eseguibilità. Mediata eseguibilità, stessa votazione. Bene. Allora, con venti, favorevoli, otto, contrari, sette, sette contrari, la delibera è approvata. Riconoscimento debito fuori bilancio, articolo 194,1 lettera A, Tribunale di Benevento, registro 75 2021, rimposto all'Unicredit, SPA, notificato il 9-12-2021. Prego, segretario. Allora, Mastella Clemente, Barbieri Italo, Sì. Capuano assente, De Lipsis Luca, Sì. De Longis Raffaele, assente. De Lorenzo Giovanni, contrario. De Mercurio Adele, favorevole. De Stasio Rosa, Contraria. Farese Francesco Giuseppe, favorevole. Fioretti Floriana, contraria. Franzese Mara, Sì. Giorgione Gerardo assente, Greco Alboino, favorevole. Guerra Rosario, favorevole. Giannelli Loredana, favorevole. Lauro Vincenzo, favorevole. Martignetti Affredo, favorevole. Meglia Giovanna, contraria. Miceli Angelo, contrario. Mignone Maria Carmela, favorevole. Moretti Angelo, contrario. Alladino Marcello, sì. Anunzio Umberto, favorevole. Parente Renato, favorevole. Perifano Luigi Diego, favorevole. Petrone Luisa, sì. Di Carillo Antonio, sì. Di Caluga assente, Scarenzi Luigi, sì. Guerra Vincenzo, assente. Tomacello, favorevole. Varricchio Maria Letizia, assente. E Zanone, Giovanni. Sì. Ok. Un attimo solo. Come sono? 20 favorevoli e 7 contrari. Bene, con 20 favorevoli e 7 contrari. Immediata eseguibilità. Votiamo come sopra? Votiamo come sopra? Sì, sì. Stessa votazione. Il punto è approvato. Riconoscimento debito fuori bilancio articolo 194 del TUE allo tribunale di intervento 72 2021, rimborso l'Unicredit. Prego, segretario. Mastella Clemente, Barbieri Italo, Capuano assente, De Lipsis Luca, sì, De Longis Raffaele, assente. De Lorenzo Giovanni, contrario. De Mercurio Adele, favorevole, favorevole. Destasio Rosa, contraga, Faresia Francesco Giuseppe, favorevole, Fioretti Floriana, contraria, Franzese Mara, sì, Giorgione assente, Greco Alboino, favorevole, Guerra Rosario, favorevole, Giannelli Loredana, favorevole, Mauro Vincenzo, favorevole, Martignetti Alfredo, favorevole, Megna Giovanna, contraria, Miceli Angelo, contrario, Mignone Maria Carmela, favorevole, Moretti Angelo, contrario, Alladino Marcello, sì, Anunzio Umberto, Parente Renato, favorevole, Terifano Luigi Diego, Perifano, Ammirofano, contrario, Petrone Luisa, sì, Di Carillo Antonio, sì, Piccaluga assente, Scarinzi Luigi, Sguera assente, Tomacella, favorevole, Barricchio Maria Letizia, Barricchio, assente, Zanone, Sì, ok, sempre uguale, sempre uguale, con 20 favorevoli e 7 contrari, vogliamo votare come sopra l'immediata eseguibilità? Il punto è approvato. L'ultimo, giusto? Sì, Riconoscimento debito fuori bilancio, articolo 194,1 letterale del Tuel, Tribunale di Benevento, Registro 89, 2021, rimborso all'Unicredit, prego, segretario. Mastella Clemente, Barbieri Italo, Sì, Capuano assente, De Lipsis Luca, Sì, De Longis Raffaele, assente, De Lorenzo Giovanni, contrario, De Mercurio Adele, favorevole, Estasio Rosa, contraria, Parese Francesco Giuseppe, favorevole, Fioretti Floriana, contraria, Francese Mara, Sì, Giorgione Gerardo assente, Greco Alboino, favorevole, Guerra Rosario, favorevole, Giannelli Loredana, favorevole, Lauro Vincenzo, favorevole, Martignetti Affredo, favorevole, Megna Giovanna, contraria, Miceli Angelo, contrario, Mignone Maria Carmela, favorevole, Moretti Angelo, contrario, Palladino Marcello, sì, Annunzio Umberto, favorevole, Parente Renato, favorevole, Perifano Luigi Diego, contrario, Petrone Luisa, Sì, Di Carello Antonio, Sì, Di Caluga Luigi assente, Scarinzi Luigi, Scarinzi, Sì, Tomacello Annalisa, Varricchio, Assente, Zanone Giovanni, Zanone, Come sopra, 20 favorevoli, 7 contrari, L'immediata eseguibilità? Vogliamo votare l'immediata eseguibilità? Come sopra? Bene, Il punto è approvato, Articoli 151, 231, Decreto legislativo 267, 2000, relazione illustrativa, rendiconto della gestione 2021, rendiconto della gestione 2021, approvazione. Prego, Assessore Sirluca. Grazie, Signor Presidente. Prima di procedere all'esame di questo rendiconto, mi preme ringraziare il settore finanza, nella persona soprattutto del dirigente Raffaele Ambrosio, la collaborazione dei revisori che sono stati appena nominati, e anche la Presidente della Commissione Finanze, che si prodiga molto per fare in modo che tutto riesca nei termini previsti. Per quanto riguarda il documento che andiamo ad approvare, il rendiconto finanziario è un documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, il riferimento al fine autorizzatorio del bilancio stesso. Evidenza dunque le spese impegnate, le entrate accertate, i pagamenti e gli incassi, il riferimento a quello che è stato previsto nel bilancio di previsione, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei resili. Dal rendiconto si rileva un risultato di gestione di competenza, costituito dalla differenza tra accertamenti e impegni, e che riguardano la gestione 2021 pari a 9 milioni e 800 mila, essendo gli accertamenti pari a 121 milioni e 889, gli impegni a 112. Questo significa che vi è stata un'attenta gestione dal punto di vista finanziario, garantendo in questo modo tutti i servizi indispensabili e tutti gli altri servizi che abbiamo potuto rendere nell'anno 2021. La gestione delle entrate ha evidenziato un tasso di definizione molto alto, cioè mettendo a confronto quello che sono le entrate del titolo primo, quindi le entrate tributarie previste rispetto a quello che è stato accertato, abbiamo previsto 44 milioni e ne abbiamo accertati 42, quindi un tasso di definizione del 97%. Questo significa che per quanto riguarda soprattutto le entrate tributarie, che sono una posta molto sensibile del bilancio, significa che la previsione che noi facciamo nel bilancio di previsione sono sostanzialmente fatte in maniera prudente, arrivando ad essere accertate per il 97%. A questo dato aggiungiamo anche il tasso di realizzazione, cioè vale a dire quante di queste somme accertate, poi effettivamente abbiamo riscosso, che sicuramente è un altro indicatore importante. In questo caso dei tributi ne abbiamo riscosso 36 mila 160, 36 milioni 160, quindi una percentuale dell'85%, migliorata anche rispetto al 2020, che era pari all'82%. Segno questo punto di un'attenzione da parte dell'Ufficio Tributi rispetto alle attività da porre in essere. L'Ufficio Tributi infatti, in esecuzione alle nuove disposizioni di legge, ha emesso entro il 31-12-2021 un numero di avvisi di accertamento per i fabbricati e le aree fabbricabili, quindi relativamente all'Imo, per le annualità 14, 15, 16 e 17, complessivamente 2.300 avvisi per un importo accertato di 3 milioni e 6. Anche sull'Atari continua la lotta all'evasione e sono stati inviati avvisi per 3 milioni 880. Continuando l'analisi delle entrate, possiamo dire che la prospettosio per la riscossione di tutti i tributi, quindi tutto il titolo primo, per l'anno in costo e per i residui, è pari a 29 milioni 477. Anche sui fondi per equativi riscossi ammontano a 12 milioni 728. Le entrate per la vendita e per l'erogazione dei servizi, vale a dire gli introidi che abbiamo avuto dagli impianti sportivi, dalla mensa, dai mercati, dai trasporti funebri, dai diritti di segreteria, ammontano a 1 milione 600 mila. Le entrate per permessi da costruire sono pari a 981 mila euro. Sui trasferimenti correnti del titolo secondo, sui 17 milioni previsti, lo Stato, di quelli che appunto avevamo, lo Stato ci aveva detto, che ci avrebbe date, ne abbiamo riscosso praticamente nove, portandoci quindi un residuo per somme che sono a titolo secondo, quindi trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altre amministrazioni pubbliche, per oltre 5 milioni e mezzo. Passando all'esame invece delle spese, il titolo primo che riguarda proprio le spese correnti, dei 74 milioni e 700 previsti, ne abbiamo impagnati 51 milioni e pagato 42 milioni. Mi preme sottolineare l'indice di tempestività dei pagamenti che per l'anno 2021 è stato di 15 giorni, cioè della metà di quanto previsto dalla legge. Questo appunto evidenza, permettetemi di dirlo, che c'è appunto un ufficio ragioneria che funziona in maniera efficiente e quindi abbiamo, ci siamo impegnati per farlo e abbiamo ridotto addirittura a 15 giorni. Questo significa che le nostre aziende, le nostre ditti, i nostri professionisti, nel momento in cui presentano la fattura e quindi si è concluso il ciclo della spesa e il dirigente fa la determina di liquidazione, da quel momento trascorrono soltanto 15 giorni che per una pubblica amministrazione, considerando i dati degli altri enti, è davvero un risultato di cui, insomma, l'ente può essere fiero. Le spese per il personale per l'anno 2021 ammontano 11 milioni e mezzo e insieme agli oneri previsti per legge sul personale sono pari al 28,12% delle spese correnti complessivamente impegnate. Le altre somme che vi volevo evidenziare riguardano sia gli interessi passivi che sono oltre 3 milioni e che gravano sulla spesa corrente, ovviamente, e le rate di rimborso dei mutui che anche se ammontano a 3 milioni. Se consideriamo queste spese che sono dette spese, che sono appunto delle spese obbligatorie, queste praticamente danno un indice di rigidità strutturale del bilancio molto alto perché risultano appunto le spese obbligatorie, quelle che in realtà possiamo dire le spese rigide, e sulle entrate correnti sono oltre il 31%. Gli acquisti di beni e servizi sono pari a 33 milioni e mezzo, di cui una spesa per i servizi sociali di quasi 5 milioni, spese per l'ambiente di 16 milioni, spese per trasporto e mobilità di 5 milioni e mezzo, e 4 milioni per spese generali e istituzionali. Le spese per investimento ovviamente meritano un'attenzione particolare perché ovviamente l'amministrazione si è impegnata e continua questo impegno riguardo quelli che sono la ricerca di fondi di finanziamento, pensiamo al bando periferie piuttosto che i PICS e adesso il PNRR. Come negli altri esercizi, anche nel 2021 è continuata l'attività di registrazione degli incassi per conto dell'OSL, quindi continua la nostra attività di riscossione per individuare appunto gli incassi che vengono trasferiti all'OSL e che nell'anno 2021 ammontano a 2 milioni e 8 e sono state appostate, così come prevede la legge, nelle partite di giro che vede la stessa somma ovviamente proprio perché è partita di giro in entrata e in uscita, per cui si neutralizza l'effetto sul nostro bilancio essendo appunto la natura stessa delle partite di giro come si suol dire le partite di giro non finanziano il bilancio perdonate il tecnicismo. Il risultato di amministrazione che si determina, cioè il risultato di amministrazione puro, cioè il risultato di amministrazione lettera A del prospetto che vi è stato appunto fornito è pari a 28 milioni e mezzo. Questo valore è evidentemente il risultato di un fondo di cassa che è pari a 23 milioni che ovviamente evidenzia un'attenta gestione della cassa e a questo valore appunto è determinato in questo modo che è il risultato vero della gestione dell'ente il nostro legislatore ci obbliga ad accantonare e a vincolare delle somme. Se consideriamo appunto la parte accantonata il fondo credito e esigibilità il fondo perdite e società partecipate il fondo condizioso e gli altri accantonamenti che costituiscono ovviamente delle poste prudenziali in quanto vanno a vincolare questo risultato di amministrazione che abbiamo determinato e considerando appunto la parte vincolata che è pari a 8 milioni e mezzo si determina un disavanzo di meno 6 milioni e mezzo per quanto riguarda questo risultato è un risultato che va rapportato ai meno 9 milioni nel 2019 quando la legge ci ha obbligato a fare il passaggio dal fondo crediti di UBSIGBD calcolato col metodo semplificato a quello calcolato col metodo ordinario questo determinò un disavanzo e poiché il legislatore sapeva che gli enti sarebbero andati necessariamente o quasi tutti così come poi effettivamente è successo in disavanzo ha previsto la possibilità di coprire questo disavanzo appunto tecnico che non deriva dalla gestione in 15 anni la rata che noi appostiamo ogni anno in bilancio è pari a 650 mila euro quindi il legislatore ci chiede per vedere questo miglioramento dai meno 9 che si erano determinati nel 2019 ad oggi ci chiede che il risultato di questo disavanzo del 2019 deve essere ogni anno ridotto almeno della quota bari alla disavanzo che noi applichiamo quindi 650 mila euro questo risultato è evidentemente migliorato perché da meno 9 siamo passati a meno 6 di conseguenza per arrivare appunto la norma ci dice dopo 15 anni ad azzerare questo disavanzo avendo accelerato e speriamo di continuare a farlo neanche negli anni a venire ma di recuperarlo in tempi anche più brevi così appunto come abbiamo fatto quest'anno per cui abbiamo rispettato quello che la normativa stabilisce pertanto alla luce di quanto evidenziato si propone a questo consiglio di adottare nel senso dell'articolo 227 e del 151 il rendiconto del relativo all'esercizio 2021 composto dal conto del bilancio conto economico conto del patrimonio secondo gli schemi redatti dal decreto legislativo 118 del 2011 e corredati di tutti i documenti che la legge prescrive grazie grazie assessora prego consigliera Migno funziona grazie grazie presidente saluto gli assessori il vice sindaco che non vedo più i colleghi consiglieri e consigliere allora abbiamo ascoltato chiaramente l'assessora con interesse e ci consentirà se la nostra visione è diciamo di una linea un po' diversa perché ancora una volta dobbiamo evidenziare che la commissione non è stata messa nelle condizioni ottimali per arrivare alla discussione odierna con un adeguato approfondimento a questo proposito prendo in prestito le parole del collegio dei revisori che invita l'ente ad adoperarsi per garantire trasparenza e tempestività tempestività dovrebbe essere la valora d'ordine per quanto riguarda i conti dell'ente perché non basta il rispetto formale dei giorni permettere i consiglieri non dico nelle condizioni ottimali ma quantomeno sufficienti per esaminare dei documenti corposi e complessi ebbene mentre ci accingevamo ad analizzare i documenti del rendiconto ci è piombato in commissione il PEF ed è io non ho osato replicare proprio perché non c'è dibattito però al consiglio comunale scorso abbiamo detto che è stato rispettato il termine non è vero perché il PEF è stato inserito all'ordine del giorno la conferenza capigruppo prima di passare in commissione e non mi sembra che questa sia la modalità corretta di agire quindi ci auguriamo maggiore tempestività anche perché credo che il 30 giugno ci sarà un'altra scadenza e bilancio di previsione e non abbiamo ancora avuto le carte quindi ci auguriamo ancora una volta di poter lavorare con una maggiore serenità a margine la commissione affossata dalla solita mole di debiti fuori bilancio legati al contenzioso e anche su questo possiamo richiamare una delle raccomandazioni che troviamo alla fine della relazione del collegio dei revisori a questo proposito vi devo confessare che leggendo la relazione dei revisori in particolare chiaramente le raccomandazioni finali ho avuto una sorta di déjà vu potremmo provare a fare uno di quei giochi che appassionano tanto gli amanti dell'enigmistica ossia uniamo i puntini perché in realtà quello che l'organo di revisione dice raccomanda noi lo abbiamo sollevato in diverse occasioni dai banchi dell'opposizione è stato detto che eravamo allarmisti facevamo campagna elettorale il solito refrain a meno che il collegio dei revisori non sia una parte dell'opposizione dobbiamo dire che forse qualche volta qualcosa di corretto la diciamo anche noi e allora vado proprio per punti a proposito del contenzioso mi ricordo benissimo quando il collega Dordone provò a togliermi la parola perché osai dire che forse dovevamo fare un pochino più attenzione per quanto riguarda diciamo il peso sui conti dell'amministrazione per quel che riguarda il contenzioso perché anche un occhio inesperto qual è il mio questo sembrava fin da subito una nota dolente e quindi tra le prime raccomandazioni troviamo proprio la riduzione del contenzioso alla quale si accompagna un modello di calcolo abbastanza diciamo articolato e lascia intuire che ci sia ancora su questo molto molto lavoro da fare anche per la valutazione del rischio non entro nel dettaglio perché sarebbe troppo lunga francamente ci preoccupa abbastanza il richiamo ad una relazione puntuale entro un determinato termine a cui faceva riferimento proprio il consigliere De Lorenzo la volta scorsa e che sembra essere rimasto nella penna per quanto riguarda i pareri che accompagnano l'approvazione dei debiti fuori bilancio quindi forse anche su questo una maggiore attenzione si potrebbe avere è sufficiente un semplice richiamo a quanto abbiamo già osservato ricordo che eravamo nella fase di approvazione del bilancio consolidato e facemmo rilevare che quella perdita per la fondazione Città Spettacolo un pochino ci preoccupava ci fu risposto poca roba non ce ne dobbiamo interessare non dobbiamo fare niente così come non sono mancate le perplessità e qua credo di dover citare di nuovo il collega De Lorenzo per quanto riguarda scusate l'espressione un po' forte un po' di pasticcio fatto sul patto territoriale della provincia insomma eravamo a dicembre 2021 lo abbiamo segnalato lo ritroviamo evidenziato in una relazione di maggio 2022 probabilmente anche su questo non è stato risolto il caos che abbiamo evidenziato sarebbe lungo affrontare il tasso doloroso delle partecipate avete minimizzato il nostro allarme rispetto a De Sesa a seguito dei provvedimenti di sequestro dei 78 di beni per 78 milioni di euro sembra che invece lo stesso allarme sia condiviso nella relazione e certo non possiamo ritenerci soddisfatti da risicatissimo spazio avuto in commissione su diciamo quelle che sono le questioni un po' più tecniche che riguardano il consuntivo che andiamo ad approvare quindi mi consentirà se di richiamare alcune questioni che abbiamo già affrontato in commissione sulle quali probabilmente per mia diciamo non confidenza con questa materia non mi sono state chiarite a sufficienza con un esame abbastanza diciamo sommario di quelli che sono i conti che ci avete presentato ciò che salta macroscopicamente agli occhi anche a chi ripeto non ha confidenza con la materia è l'ammontare il trend dei residui attivi e passivi davvero non si capisce che cosa sia successo nel 2021 anno in cui c'è stato un balzo enorme se noi consideriamo chiaramente il 2016 e l'anno 0 il 2017 e l'anno 1 negli anni precedenti noi abbiamo avuto circa 4-5 milioni all'anno e ce ne ritroviamo ben 20 di residui attivi nel 2022 tant'è vero che della somma ad oggi dei residui attivi di 49 milioni quasi il 50% concerne di competenza del 2021 e la stessa cosa la possiamo dire per i residui passivi abbiamo un trend di 3-4 milioni all'anno più o meno dal 2017 al 2020 valzo enorme nel 2021 ben 16 milioni ora volendo essere un pochino realistici ma noi davvero pensiamo di riuscire di trasformare liquidità e in tempi brevi delle somme così consistenti questo rischio io ho letto velocemente anche le riflessioni fatte nelle sedute degli anni precedenti questo rischio di comprimere la capacità di spesa dell'ente proprio per diciamo una mole importante di residui attivi e passivi era già stato evidenziato e sinceramente un'altra cosa che balza agli occhi è io non uso termini proprio corretti quindi mi scuserete però lo dico come mi viene preoccupa la capacità di riscossione dell'ente percentuale 20% un pochino meglio per quanto riguarda i residui attivi un pochino meglio ma non benissimo per i pagamenti 37% e quello che si nota è un trend peggiorativo cioè che la capacità di riscuotere e di pagare peggiora nel tempo ci direte c'è stato il covid adesso c'è la guerra comunque la preoccupazione resta altro tasto sempre dolente riguarda i rapporti con l'oslo devo dire che poiché è una questione che è stata molto dibattuta negli anni precedenti che sinceramente una delle questioni che forse più ha interessato il dibattito in consiglio comunale un pochino di chiarezza adesso c'è perché ci viene esposto in maniera abbastanza chiara quanti milioni sono stati girati all'oslo e quando sono stati fatti gli atti di liquidazione e noi leggiamo che i 9 milioni che sono stati dati di recente riguardano incassi fatti per conto dell'oslo al 2020 ma sono stati fatti con un atto di liquidazione di febbraio del 2022 nella stessa relazione si dice che nel 2021 abbiamo continuato ad incassare per conto dell'oslo altri 2 milioni e mezzo 2 milioni e 8 che non sono stati ancora trasferiti quindi nella cassa che noi vediamo esposta al 31-12 se abbiamo ben capito ci sono sia i 9 milioni degli incassi fatti fino al 2020 9 milioni e mezzo sia i 2 milioni e 8 che riguardano il 2021 quindi sicuramente dalla cassa dovremmo evidenziare che ci sono un bel po' di soldi che abbiamo incassato per conto dell'oslo lei ci ha riferito in commissione che non ci interessa più di tanto perché non finiscono nel risultato di amministrazione e li neutralizziamo francamente non ho avuto il tempo di capire dove li possiamo trovare però mi impegnerò magari di più sui prossimi bilanci qualche brevissima considerazione mi abbia la conclusione sugli indicatori lei chiaramente ha fatto riferimento a quello che riguarda i tributi però se scendiamo un pochino di più sotto nella tabella abbiamo bassi indici di accertamento rispetto alle entrate extra tributarie non andiamo benissimo francamente nella riscossione dalle amministrazioni pubbliche e qua sinceramente fatemi passare la battuta ma io ricordo che qualcuno si è bantato delle relazioni che possiamo spendere politiche personali a Roma e a Napoli insomma perché le amministrazioni pubbliche poi non traducono queste relazioni in tempestivi pagamenti a favore dell'ente francamente sfugge qualche ulteriore considerazione gli indicatori che maggiormente preoccupano sulla capacità di pagamento della spesa riguardano la missione 4 di istruzione che è bassissima su molte voci la missione 12 per gli interventi agli anziani e sprofondiamo ad 1-0 sulla missione 17 per le fonti energetiche ma probabilmente qualcosa mi sfugge non mi sembrano indicatori molto positivi nel frattempo chiudo con una buona notizia pochissime multe fatte nel 2021 vorrà dire che i cittadini di Benevento sono diventati tutti automobilisti diligenti purtroppo i soldi che possiamo ricavare da questa voce sono stati pochissimi anticipo il voto contrario del mio gruppo grazie grazie consigliera Megna prego consigliere Miceli saluto il sindaco aggiunta i colleghi consiglieri la stampa intervenuta io proverò a soffermarmi su qualche nota un po' dolente perché avendo ascoltato la relazione dell'assessore sulla capacità di accertamento e riscossione del titolo primo delle entrate che sono quelle di carattere tributario ho parlato di un 97% evidente che siccome il titolo delle entrate cioè le entrate sono divise per altri titoli dobbiamo per forza di cose tirare la somma e quindi una media ponderata ovvio che sul punto dobbiamo scontrarci con la nota dolente delle entrate del titolo terzo che quelle sono extra tributarie perché lì l'indice è oggettivamente molto 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 basso siamo intorno al 23 24% ed è così in realtà per un trend storico di questa amministrazione per la verità solo per il 2021 ma della precedente sempre a sue immagini e somiglianza anche per gli anni passati dirò subito qualcosa qual è il titolo terzo il titolo terzo è per la verità la vendita dei beni e servizi e i proventi derivanti dalla gestione dei beni i proventi delle attività di controllo e repressione degli illeciti ovvio che parliamo della gestione del patrimonio immobiliare del comune di Benevento ed è ovvio fare quindi l'accenno alle alle cifre che vengono riportate nella relazione della gestione allegata al rendiconto per quanto attiene il titolo terzo delle entrate noi abbiamo un preventivato di 10 milioni abbiamo un riscosso di 2 milioni 739 c'è da dire che già portavamo come residui di questa di questo specifico titolo dal 2020 qualcosa come 7 milioni di residui attivi per cui oggi noi andiamo a sommare altri 7 milioni di euro di residui attivi sulla competenza del 2021 procediamo a quello che la prima la consigliera la consigliera Megna cercava di spiegare questo sovradosaggio per quanto riguarda gli anni di competenza in ragione del consuntivo a cui si riferiscono di una crescita esponenziale in termini di residui attivi e anche di residui passivi certamente diversa non proporzionata in maniera diretta se io vado a prendere il consuntivo dell'anno 2020 quello votato dalla precedente amministrazione ma c'era lo stesso assessore c'era lo stesso sindaco c'erano gran parte degli attuali consiglieri di maggioranza noi abbiamo lo stesso trend il 2020 per quanto attiene i residui attivi a rendiconto 2020 il 2020 si chiudeva con 14 milioni di euro di residui attivi e però con rendiconto 2021 diventano 7 la stessa cosa si può dire per i passivi e la stessa cosa si potrebbe fare da qui all'infinito sui rendiconti degli anni precedenti il rendiconto quando si riferisce all'anno di cui si riferisce vede una notevole crescita di residui attivi e poi sul rendiconto successivo vengono un po' a liquefarsi per fare spazio ai nuovi residui attivi dell'anno di competenza ci sarà qualche logica contabile o finanziaria o astrettamente riferibile a una gestione non proprio oculata questo certamente non può aspettare a me che mi approccio non dico per la prima volta ma per la seconda terza o quarta a una materia che comunque è oggettivamente difficilmente intellegibile se non la si mastica non dico quotidianamente ma con una certa cadenza e una certa frequenza fatto sta ad oggi noi riscontriamo le stesse cose che riscontriamo nei rendiconti degli anni passati l'anno di competenza a cui ci si riferisce è una crescita mostra dei residui attivi abbiamo fatto avete fatto un nuovo riaccertamento per quanto attiene la richiesta del collegio dei revisori sul riaccertamento dei residui tanto è vero che siete stati tra virgolette costretti a ritornare sui vostri atti deliberativi avete messo in conto un saldo noi perdiamo secondo il vostro riaccertamento 6 milioni di euro di residui attivi a fronte di una di un vantaggio gestito in termini di minor residui passivi per 3 milioni qual è il saldo? il saldo è negativo i colleghi consiglieri da un riaccertamento effettuato su specifica richiesta del collegio dei revisori che ha portato a una rettifica delle delibere di giunta relativamente alla relazione allegata al piano del confluntivo 2021 noi abbiamo un saldo negativo di ulteriori 3 milioni di residui e parliamo attenzione non di residui ultraventennali noi parliamo di residui che decorrono dall'anno 2017 stiamo parlando di una gestione totalmente a immagine e somiglianza dell'attuale matrice politica di riferimento stesso sindaco dal 2017 stesso assessore alle finanze dal 2017 molti consiglieri di maggioranza facevano parte della stessa della stessa compagine che ha governato dal 2017 ma qual è anche un po' la novità di questa gestione patrimoniale dei beni comunali e al netto di quello che verrà potenzialmente ad uso come giustificazione come scriminante no? guerra e che noi troviamo relazioni della giunta largate dagli anni 2017 a 2022 vengono appostate delle somme come possibili voci di entrate vengono appostate nel previsionale fondamentalmente queste voci appostate nel previsionale non vengono mai come dire riscosse perché non ce ne sono gli atti non c'è vendita non c'è una grandissima capacità da parte di questo ente di portare a redditività il proprio patrimonio pubblico parliamo di concessioni di locazioni parliamo di allineazioni parliamo anche di una mi si consenta una sciatteria amministrativa considerato che la delibera di giunta che viene copiata e incollata dal 2017 ad oggi parla ancora e vado testualmente a leggere richiamando la delibera di giunta 105 del 19-5-2022 la delibera di giunta 115 del 27-2020 la delibera di giunta 49 del 18 marzo 2019 che nella sua parte narrativa continua a ripetere come un refrain preso atto che alcuni immobili saranno valorizzati mediante il nuovo regolamento comunale approvato nella seduta consuliale del 14 aprile corrente anno e ne vincola ossia il regolamento per l'assegnazione di beni immobili di proprietà del comune ad enti ed associazioni allora non c'è nessuno in giunta che legge una delibera riprendete la stessa delibera dal 2017 con le stesse parole dal 2016 vengono cambiati solamente gli importi ma neanche tanto neanche tanto per quanto riguarda le entrate previste da allegare al previsionale nessuno che legge mai una delibera in giunta il corrente anno a cui si riferisce l'approvazione del regolamento era del 2017 voi continuate a prendere nel 2022 la stessa delibera con lo stesso rifuso e nessuno che in giunta legge una delibera sul piano delle alienazioni ma stiamo scherzando cioè voi parlate della possibilità di valorizzazione legata a un refrain datato cinque anni fa nessuno che dice ma giustate cambiate sostituitelo questo per dire la grande capacità di realizzazione dei vostri programmi e si vede anche da questo da come si si prende un atto giuntale che dovrebbe essere diciamo l'ABC dell'efficienza un organo esecutivo del comune di Benevento per non parlare di questo regolamento che a tutto sembra essersi dichiarato voler valorizzare in realtà questo regolamento si applica solo con l'articolo 15 volete sapere qual è l'articolo 15 del regolamento di concessione dei beni immobili a enti e associazioni volete sapere perché penso che sia l'unico caso in Italia che si fa un regolamento per applicare solo la deroga l'articolo 15 per cause imprevedibili covid guerra poi fra poco arriveranno le locuste l'acqua si trabutterà in sangue arriveranno le piaghe perché oggettivamente il consigliere Valladino ha annunciato anche che arriveranno e già sono arrivati gli insetti gli insetti no gli insetti i zanzari i cinghiali cioè praticamente stiamo assistendo alle piaghe d'Egitto in salsa beneventana io spererei che qualcuno sperare sperare spero 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 che tutto questo non possa avere qualche attinenza rispetto a un film già visto perché è ovvio che nel momento in cui andiamo a verificare il previsionale immagino che quella famosa voce del piano delle allenazioni dovremmo confutarla con quello che è stato accertato e riscosso in termini di competenza negli anni precedenti perché obiettivamente a tutto c'è un limite alla prudenza eh bisognerebbe rifarsi in maniera sistematica all'interno degli atti contabili ed è ovvio che se noi abbiamo un trend di riscossione delle entrate extra tributarie e del titolo poi relativamente anche alla relazione dei beni immobili comunali per la qualcosa non andiamo oltre il 20% è ovvio che voi state falsando i dati di bilancio perché ovviamente se la tassazione se le entrate tributarie del titolo primo portano al comune all'incirca 35 milioni di euro c'è da dire sempre che qua se ne spendono 50 e più quindi c'è da coprire sempre un discorso di oltre 20 milioni di spese correnti per cui giocare sul discorso dei residui giocare sul discorso delle vendite e delle allineazioni sulla capacità di portare a valorizzazione e a reddito il patrimonio comunale penso che i primi che dovranno verificare per bene questi dati sono coloro che approveranno i documenti contabili e sono i colleghi consiglieri di maggioranza perché io con questa breve disamina relativamente al titolo terzo delle entrate del bilancio comunale che grida vendetta perché ripeto è una costante all'interno dei dati dei documenti contabili del comune di Benevento dal 2017 a seguire mi impedisce ed impedisce al mio gruppo di esprimere un parere favorevole per cui consegno il voto contrario del gruppo di Città Aperta e lancio anche una verifica al collegio dei revisori sul punto dell'entrata relativa agli oneri dei permessi a costruire dove viene fatto uno schemino viene fatto lo schemino sull'accertato di riscosso con un differenziale dal 2018 al 2019 al 2020 al 2021 che più o meno si aggira intorno al 15% sale oggettivamente nell'ultimo anno l'anno di competenza 2021 ma viene specificamente riportata questa frase da parte del collegio dei revisori verso cui chiedo un'interpretazione autentica di questa frase loro dicono che la differenza dalla città dei riscosso non è garantita la polizia fidei ussoria siccome tutti gli oneri di natura concessoria relativamente al rilascio dei permessi a costruire o vengono pagati immediatamente per l'ottenimento del titolo o vengono dilazionati previa stipula della polizia fidei ussoria io non capisco loro a cosa si riferissero perché parliamo comunque di somme che producono residui parliamo di somme che naturalmente non essendo riscosse producono un differenziale rispetto al preventivato del previsionale e sono pure 150.000 euro all'anno che diventano circa 200.000 nell'ultimo anno nel 2021 per cui chiedo mi sembra che ci sia il presidente del collegio dei revisori chiedo di essere ehm di acquisire la valutazione del collegio su una frase scritta all'interno della propria relazione relativamente agli oneri di urbanizzazione grazie consigliere presidente del collegio vuole replicare prego buongiorno a tutti in riferimento ai contributi permessi da costruire eh in questa variazione tra l'accertamento e la riscossione rispetto all'anno 2021 di cui in accertamento abbiamo circa 933.000 euro e come riscossi 162.000 circa 761 62 in effetti che cosa significa non sono garantiti da fiduzione la verità che in effetti questa somma chiedo scusa è così questa somma si trova depositata sui conti correnti postali quindi dalla verifica di cassa che noi facciamo trimestralmente e in cui nella verifica di cassa trimestrale ci sono elencati oltre a quella del tesoriere sono elencati anche tutti i conti correnti postali che l'entra in essere su quel conto corrente postale dedicato ai contributi per permessi a costruire c'è questa giusto c'è questa somma quindi per questo motivo c'è scritto non sono garantite da fiduzioni perché questa somma non si trova ancora nella tesoreria nella disponibilità tra virgolette dell'entra ma su un conto corrente postale che poi ha necessità che il responsabile faccia una reversale per finire per andare nella tesoreria del comune questo è quello che vuol dire e quindi a questo se possibile interroguire si riferisce anche all'osservazione del collegio sulla tempistica appunto verso i dirigenti responsabili dei servizi a procedere in maniera quindicennale alle riversali perché quindi obiettivamente diciamo quelli non formano cassa perché non vengono ancora vabbè è giusto che ci sia un chiarimento grazie presidente ci sono altri interventi qualcuno chiede la parola prego consigliere guerra signor sindaco signor presidente colleghi consiglieri membri della giunta ho un po' di invidia nei confronti del consigliere miceli che con dovizie di particolari ci ha illustrato numeri così precisi che avevo difficolti obiettivi al liceo quando sentivo parlare della curva di philips ho impezzato subito un televisore dalle forme sinuose a parte gli scherzi noi oggi siamo chiamati diciamo a votare un documento importantissimo il rendiconto di gestione dell'amministrazione comunale quindi di come sono state spese le risorse che erano state preventivate se sono stati raggiunti determinati obiettivi da parte dell'amministrazione la mia attenzione è stata catturata subito per quanto riguarda la relazione dell'organo di revisione di revisione L'assessore Serluca ha messo la presenza di come lo sfasamento rispetto alla previsione questa volta abbia quasi centrato interamente gli obiettivi e si tratta di un dato molto importante, di una certa incisività se lo paragoniamo ad altre amministrazioni del Sud in perenne sofferenza. E' vero, voi avete ragione, mettete sempre in risalto il fatto che le variabili del Covid, la crisi economica non debbano essere sempre presa a pretesto, però se voi andate ad analizzare i dati economici degli ultimi anni vedete che il Covid ha costituito un enorme ostacolo per quanto riguarda l'espansione economica, quindi non è come dire un'invenzione che facciamo noi quando c'è la redazione dei bilanci. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è laddove praticamente il collegio dei revisori mette in risalto il fatto che il Comune non è strutturalmente deficitario. Questa è un'osservazione che mi rende più tranquillo perché mette in risalto di come l'amministrazione comunale sia ancora in grado di far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori, cioè in altri termini sia ancora in grado di pagare. Tutto ciò ci è dimostrato ampiamente dalla tabella riassuntiva che prevede il pagamento del ratio di 649 mila euro all'anno, mi pare, per quanto riguarda il disavanzo. Questo è un indice che indica di come ancora il Comune sia in grado quindi di far fronte ai propri impegni e di effettuare determinati pagamenti. Come è stato messo in risalto dall'assessore, praticamente c'è un indice che prevede la puntualità nei pagamenti pari a 15 giorni, quindi penso che si tratti di un risultato positivo rispetto alle altre amministrazioni del Sud. Volevo fare un'osservazione, certo che è difficile quando c'è la redazione del bilancio realizzare la perfetta corrispondenza tra il preventivato e il realizzato, questo non accade da nessuna parte. Siamo cosci delle criticità, consigliere Miceli, che andremo ad affrontare. Per esempio lei ha illustrato saggiamente, anche la consigliera Megna, la difficoltà congenita che c'è per quanto riguarda l'esazione dei tributi con riferimento alla Tari. Se noi facciamo un identikit delle persone che non versano quella tassa, anche negli anni passati, ricordo che ci sono state delle iniziative a tal riguardo, il consigliere Miceli faceva parte insieme a me di quelle amministrazioni, quindi la difficoltà congenita di mettere in atto azioni esecutive, perché l'identikit classico del cittadino che non paga in quei casi difficilmente possiede dei beni che possono essere aggrediti. Quindi ci sono difficoltà che ci trasciniamo da anni e che sicuramente è un settore dove dobbiamo mettere a sessore tutto il nostro impegno per migliorare la riscossione, anche per una ragione di equità nei confronti degli altri contribuenti. Io sono convinto di votare questo documento contabile per una ragione semplicissima, per l'ottimo lavoro che è stato svolto dalla struttura e quindi il giudizio quasi interamente positivo che viene fatto dal collegio di revisione. Non penso che il collegio si renda complice delle irregolarità oppure di indicazioni che non sono state corrette da parte della struttura finanziaria. Quindi oltre a ringraziare la struttura finanziaria per il lavoro fatto è naturalmente il Presidente Tomacillo che in questi ultimi tempi ha svolto un lavoro frenetico e abbiamo anche appreso lezioni da parte dell'assessore di diritto finanziario e sicuramente la mia convinzione è rafforzata anche da un altro particolare. Vedete io la settimana scorsa ho fatto una visita al Sindaco per le sue ragioni di salute che ben conoscete ed è stata diciamo una visita in un certo senso illuminante. Abbiamo fatto una discussione di carattere politico che ha riguardato i vari aspetti della città, dall'argomento calcio alla preoccupazione per quanto riguarda l'accelerata circa l'edilizia scolastica, la realizzazione dei piani che riguardano i progetti del PNRR tutti accomunati diciamo dalla determinazione e dalla volontà come dire di portare a compimento determinati progetti per il bene della collettività ecco in quel senso per me si tratta come dire una sorta di rendiconto cioè la forza, la volontà di portare a compimento progetti che sono stati condivisi da tutti nell'interesse della comunità. Grazie Grazie consigliere Ci sono altri interventi? Prego consigliere Fioretti Saluto il Presidente, gli Assessori, i colleghi consiglieri Bene, ci accingiamo a votare il rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2021 e questa è un'occasione importante per dire in modo chiaro alla città di Benevento qual è lo stato di salute finanziaria dell'Ende? Se la spesa corrente è stata contenuta entro i limiti delle entrate oppure ha prodotto ulteriori debiti? Io ritengo che al di là di tecnicismi oppure utilizzare il linguaggio della verità. La verità da dire con coraggio ai cittadini beneventani è che questa amministrazione ha prodotto un disavanzo di 6.478.000 euro e il disavanzo, lo sappiamo, è il prodotto, è il marcatore di un concreto squilibrio finanziario generato da una spesa in eccesso rispetto ai parametri contentivi ed è questa la fotografia della gestione economica finanziaria targata da questa amministrazione. Ora, noi siamo ancora in attesa di conoscere la relazione del servizio ispettivo inviato dalla ragioneria di Stato per verificare e fare chiarezza sullo stato finanziario di Palazzo Mossi e non abbiamo mai nascosto i nostri timori, i nostri dubbi circa i pesanti addebiti addebiti mossi dall'organismo straordinario di liquidazione all'amministrazione comunale. Resta sullo sfondo il problema principale, sono trascorsi 5 anni dalla dichiarazione di dissesso e siamo ancora fermi al palo. I creditori attendono ancora la riscossione delle somme dovute e a soffrire di più sono tutte quelle categorie di professionisti, commercianti e artigiani che hanno per giunto sofferto gli effetti della pandemia. Ed ora vengo ai numeri. Come già rilevato da chi mi ha preceduta negli interventi, abbiamo letto di circa 50 milioni di residui attivi, ovvero di entrate accertate ma non ancora riscosse e quindi crediti non incassati dall'amministrazione. A tal proposito sono gli stessi revisori nel parere sul riaccertamento ordinario dei residui ad invitare i dirigenti a fornire una migliore esaustiva motivazione per il mantenimento di ogni residuo e monitorare continuamente l'attività di recupero degli stessi con l'invio di un resocondo motivato dell'attività svolta. E a tal proposito si prende atto sempre nella relazione dei revisori che le somme rimaste al residuo per recupero e evasione non sono stati oggetto di accantonamento nel fondo crediti di dubbia esegibilità al 31-12-2021. E sarebbe anche interessante comprenderne le motivazioni del mancato accantonamento. Inoltre aggiungo che forse qualche dubbio e perplessità è venuto anche ai revisori dei conti sulla certezza, liquidità ed esegibilità dei residui attivi, quando a pagina 7 del parere il collegio reitera l'invito ad adottare le misure idonee a fine di consentire che i residui attivi relativi alle entrate tributarie ed extratributarie possano tramutarsi in disponibilità liquide in tempi brevi. Ora, considerato che l'anzianità dei residui attivi al 31-12-2021 deriva proprio dai mutari e fitti attivi, mi collego anche a già quanto dichiarato nel precedente Consiglio Comunale sulle tariffe TAR, in cui ho più volte sottognato i ritardi dell'amministrazione nella riscossione dei tributi che vanno ad inficiare negativamente sulla gestione finanziaria dell'ente e sulla capacità di spesa dell'ente. Inoltre un dato che merita chiarezza è quello relativo al fondo contenzioso. Viene riportato un accantonamento per fondo rischi contenzioso di 841.922 euro al 31-12-2021. E' bene sottolineare come questa voce è sempre più oggetto di rilievo nelle istruttorie delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e la contabilità finanziaria ha imposto l'obbligo di accantonamento di somme nel fondo rischi contenzioso in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva. Il calcolo del fondo contenzioso non può avvenire attraverso una percentuale forfettaria ma è necessario valutare le singole controverse e tenere conto delle loro specificità in termini di soccombenza. E' indispensabile che l'ente proceda ad una puntuale ricognizione dello stato delle procedure giudiziarie già in corso che gravano in capo l'ente con l'indicazione della loro caratteristica ma soprattutto con la quantificazione del valore del peditum. A tal proposito tenuto anche conto dei rilievi mossi dai revisori che raccomandano in maniera reiterata il monitoraggio costante dell'andamento dei contenziosi con l'obbligo di effettuare un'analitica e motivata attività di stima e di valutazione del grado di rischio afferente alle proprie passività potenziali chiedo quali sono stati i criteri analitici adottati per la costituzione del predetto fondo. E poi ancora aggiungo che mi ha colpito la dicitura inserita a pagina 27 a proposito dei debiti fuori bilancio quando si scrive che dopo la chiusura dell'esercizio sono stati pagati e da riconoscere debiti fuori bilancio per euro 73 milioni 991 mila euro spero che sia un refuso perché mi hanno insegnato che i debiti fuori bilancio prima si riconoscono e poi si pagano così come sicuramente è un refuso e me lo auguro che all'interno della relazione a proposito dei rapporti con gli organismi partecipati dire che la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche viene fatta al 31 12 2019 invece di scrivere al 31 12 2020 insomma mi auguro che sia anche questo un refuso e proprio a proposito delle società partecipate dai revisori giunge un invito a monitorare l'andamento gestionale delle partecipate di potenziare l'ufficio e monitorare le eventuali eccedenti di personale di tutte le società partecipate infine il collegio dei revisori raccomanda l'ente di assumere iniziativa per fondazione città spettacolo che chiude con una perdita di 12.947.000 euro e 28 centesimi ecco sulla fondazione qualche giorno fa è uscito con una nota stampa il consigliere Perifano che giustamente ha sottolineato l'inutilità dell'esistenza di una fondazione che vivacchia senza progettualità, senza funzioni, senza attività e forse questa è l'occasione giusta anche grazie alla sollecitazione giunta dal collegio dei revisori di capire il ruolo e la funzione da dare alla fondazione che insomma chiude con un bilancio in perdita e poi ancora un'altra raccomandazione che giunge dal collegio dei revisori a proposito del patto territoriale della provincia di Benevento evidentemente è sfuggito che il contio comunale già si è espresso il 14 febbraio 2022 deliberando sulla necessità che il comune di Benevento continui a far parte del patto territoriale affinché partecipi ai progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e territoriale concludo il mio intervento annunciando anche il voto contrario del gruppo del partito democratico visto che questo rendiconto presenta tante zone d'ombra molti dubbi e perplessità e quindi è impensabile votarlo in maniera positiva grazie grazie consigliera Fioretti per qualche altro intervento grazie presidente saluto l'aggiunta e i colleghi consiglieri io in realtà non ho da aggiungere rispetto a quanto già detto dalla consigliera Fioretti però un passaggio fatto dalla consigliera Megna mi dà l'occasione per chiedere un chiarimento al presidente del collegio dei revisori perché nel parere del rendiconto i revisori specificano più volte sia a proposito del fondo contenzioso che negli inviti finali di monitorare l'andamento delle cause legali e i pignoramenti che riguardano appunto l'ente ora io già lo scorso consiglio avevo sottolineato che rispetto ai debiti fuori bilancio approvati a dicembre 2021 era presente una richiesta specifica fatta nel parere del collegio dei revisori rispetto ad ogni debito e cioè quello di effettuare un'istruttoria sulla causazione della responsabilità del debito e di fornire una relazione ai revisori entro 30 giorni cosa che noi non abbiamo ancora ricevuto abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti queste relazioni non ci sono state date quindi innanzitutto chiedo al presidente del collegio dei revisori se entro il 30 gennaio del 2022 sono state effettuate queste relazioni che lui come presidente insieme al collegio dei revisori aveva chiesto rispetto ai debiti fuori bilancio del 2021 e l'altro aspetto che anche necessita un chiarimento sempre rispetto ai debiti fuori bilancio è che tanto i debiti fuori bilancio approvati allo scorso consiglio della settimana scorsa quanto quelli approvati oggi riguardano somme del 2021 perché si tratta di assegnazione del 2021 in quel parere nei pareri rispetto a questi debiti però scompare la richiesta di relazione quindi volevo capire perché in questi casi non c'è la richiesta di relazione se sono state fornite le relazioni rispetto ai debiti del 2021 visto che noi andiamo ad approvare vi sento di conto appunto riguardante il 2021 grazie consigliere Presidente vorrei precisare prego consigliere vogliamo prima fare ah benissimo ok prego consigliere di economia processuale si direbbe in tribunale molto brevemente e per annunziare ovviamente il voto contrario di prima Benevento condivido le osservazioni e le perplessità dei colleghi consiglieri di opposizione che mi hanno preceduto e che in verità abbiamo anche palesato nelle commissioni nelle sedute della commissione bilancio nella quale nonostante ecco la presenza dell'assessore a cui va dato atto sostanzialmente quantomeno della disponibilità a chiarire determinati passaggi però probabilmente per nostra o mia inesperienza quei chiarimenti non sono pervenuti e mi ricollego in particolare data la mia attività professionale a quanto evidenziato dal collega De Lorenzo effettivamente quella relazione richiesta dai revisori dei conti nei 30 giorni all'ufficio legale non è pervenuta ma soprattutto ecco noi sostanzialmente abbiamo constatato l'accantonamento per quelle che sono le spese giudiziarie e legali dell'ente e anche oggi sono stati approvati dalla maggioranza naturalmente debiti fuori bilancio che partono sostanzialmente da somme a dir poco esigue che si sono super moltiplicate nel corso degli anni parliamo di sentenze impugnate procedimenti di esecuzione ai quali si è proposta opposizione tuttora pendente è del tutto evidente che sono debiti fuori bilancio che vanno pagati e vanno inseriti in quanto tale però ecco noi dovremmo a mio modo di vedere ed è un invito anche al presidente del collegio dei revisori dei conti andare a verificare questa prassi di sostanzialmente impugnare quando ci sono precedenti specifici sentenze uguali tra di loro giusto per evidentemente non so la prassi di impugnare punto e basta secondo me dovremmo andare e il collegio dei revisori dei conti dovrebbe andare a verificare la fondatezza non tanto della costituzione in giudizio quella è del tutto evidente che va fatta ma delle azioni successive sembra nulla ma se da un debito di 600 euro si arriva ad un pagamento di 10.000 euro se noi facciamo le dovute proporzioni ovviamente questo va ad incidere sull'ente sulla capacità di spesa dell'ente così come esiste la difficoltà il ritardo enorme nella riscossione dei crediti dell'ente ecco anche quanto chiarito dal presidente del collegio dei revisori dei conti rispetto alle somme sulle quali non vi è fidei uscione perché sono depositate ma qual è io confesso la mia ignoranza qual è la motivazione per cui queste somme non vengono poi attribuite dal conto corrente all'ente allora sono questi passaggi che lasciano molti dubbi e molte ombre come dicevano i consiglieri che mi hanno preceduto così come chiudo non si può non sottolineare che dopo 5 anni di dissesto io non so l'OSL se esista o non esista perché non se ne sente parlare non dimentico le osservazioni fatte dal precedente commissario straordinario di liquidazione commissario che poi è andato via però è una situazione molto pesante che ovviamente non può comportare non un voto favorevole ma un atto di fiducia da parte dell'apposizione che pure vorrebbe dare ma queste condizioni al di là delle responsabilità personali sinceramente non riusciamo e non possiamo assumerci questo tipo di responsabilità politica a fronte di una mancanza di chiarezza che non è possibile neanche un atto di fede quindi confermo il voto contrario di prima benevento grazie grazie consigliera prego prego Presidento allora relativamente ai debiti fuori bilancio non abbiamo più richiesto di avere la relazione nei 30 giorni per un motivo molto semplice perché tutti i debiti fuori bilancio devono essere trasmessi alla Corte dei Conti e quindi alla fine sarà la Corte dei Conti a valutare se c'è stato danno e recuperare fare un'azione per il risarcimento del danno nei confronti di chi ha procurato questo danno quindi oltre la maggior parte di questi debiti fuori bilancio sono relativi a sentenze e quindi questo è qui che diceva il consigliere che non no Fioretti in effetti noi li troviamo già nel consultivo e sono quei debiti fuori bilancio che troviamo nel consultivo 2021 ma che stiamo riconoscendo oggi quindi che abbiamo riconosciuto sia la volta scorsa al precedente consiglio sia oggi che si riferiscono a questi debiti fuori bilancio e sono tutti debiti per la maggior parte e questa è una cosa molto strana diciamo che qui succede a Benevento e che è relativa a un soggetto particolare questo forse è stato detto anche al precedente consiglio cui io ho assistito climaticamente in effetti c'è questo avvocato questo professionista in cui questo giudice meglio dire questo magistrato che è un giudice di pace e che adotta perché questi sarebbero debiti fuori bilanci che ipoteticamente dovrebbero rientrare nella nella gestione dell'oslo quindi antedissesto e purtroppo il giudice di questo giudice adotta questa sentenza della Corte Costituzionale in cui dice che gli onorari perché parliamo di onorari per questi debiti fuori bilanci vengono un attimo cissi dalla sorta capitale e quindi seguono una regola diversa per dire la verità su questo anche l'avvocatura ha proposto appello a queste sentenze perché non è d'accordo come non lo sono per dire la verità anch'io non sono d'accordo però c'è una sentenza in cui il giudice purtroppo fa riferimento a questa sentenza che esiste e quindi per questo motivo quindi questo è il problema il problema dei conti correnti e il problema di questi vignoramenti presso i conti correnti presso la tesoreria per quanto riguarda la problematica dei conti correnti costali diciamo che non c'è nessuna è tutto trasparente in effetti non c'è nessuna oscurità perché i conti correnti possono essere solo e gestiti tramite flussi telematici quindi alcuni non possono essere manipolati tranne quando il servizio il responsabile del servizio finanziario in effetti adotta le riversate per trasferirli sul conto corrente di tesoreria ma le dico ancora di più per il passato noi ci siamo accorti e questo è agli atti in cui sono state fatte anche denunce in cui quando c'è stato il passaggio in effetti prima questi trasferimenti prima della riforma avvenivano con assegni circolari questi trasferimenti ci sono stati elevati delle somme da questi conti correnti e in effetti noi con il responsabile dell'ufficio finanziario e anche con con l'amministrazione comunale c'è tutta una delle denunce fatte sia in procura sia alla corte dei conti sia alla guardia di finanza e più ne ha più ne metta per per capire di chi è stata la manomissione di questi assegni circolari per il prelevamento di queste somme abbiamo cominciato anche la causa contro le poste eh sì l'azione è iniziata anche l'azione legale contro l'ufficio le poste italiane per questo quindi questa è la situazione dell'arte al momento grazie presidente presidente chiedo scusa ma quindi le relazioni richieste non sono state fatte quelle richieste non sono state e non saranno ma ripeto cioè è un di più era un di più che noi e allora perché erano state chieste se era un di più chiedo scusa presidente no ha ragione molto probabilmente per per sollecitare l'ufficio a trasmettere cioè era un deterrente per far trasmettere quelle quei debiti fuori bilancio alla corte dei conti perché altrimenti non li avrebbe trasmessi no molto probabilmente non questo molto probabilmente vanno molto a rilento allora per sollecitarli a trasmetterla un per accelerare i tempi solo per questo va bene grazie presidente per la precisazione ci sono altri interventi possiamo segretario adere dei mercuri bene prego consigliere dei mercuri buongiorno saluto tutti gli assessori il sindaco a cui vanno i miei auguri di una pronta guarigione i colleghi consiglieri la stampa presente questo questo consuntivo come sappiamo fa riferimento all'anno 2021 ed è un consuntivo particolare per due ragioni in primis perché c'è da dire che su questo consuntivo in effetti ha già votato la città perché su questo consuntivo siamo andati ad elezioni ad ottobre e a quanto pare il lavoro amministrativo ed economico consiglieri a quanto pare il lavoro amministrativo ed economico di questa amministrazione di cui io non mi posso pregiare di aver fatto parte nello scorso anno è stato apprezzato dalla città stessa quindi al di là di quanto di come quest'aula voterà oggi questo bilancio diciamo che è già passato al baglio dell'intera città che chiaramente ha valutato positivamente in secondo luogo questo bilancio fa riferimento all'anno 2021 come sappiamo tutti un anno molto difficile e particolare per l'intera nazione anzi per l'intero mondo perché abbiamo vissuto la pandemia che ha devastato economicamente e condizionato tutte le attività amministrative pubbliche d'Italia e anche della città di Benevento questo bilancio rappresenta alle azioni che l'amministrazione Mastella ha messo in campo nell'anno 2021 e mi sembra puerile ridurre ad una lettura assolutamente tecnica e specifica un bilancio amministrativo che per dare lettura diciamo corretta bisognerebbe avere le competenze dell'assessore Serluca che sappiamo essere una docente universitaria in materia quindi io non mi permetterò di evidenziare aspetti tecnici oltretutto anche i banchi dell'opposizione che hanno sollevato particolare diciamo discresia è stato anche chiarito dal presidente del collegio dei revisori io mi permetterò soltanto di evidenziare quanto bene questa città sia stata diciamo fatta quanto bene sia stato fatto da questa amministrazione per il 2021 poiché è stato secondo me un'annualità in cui l'amministrazione ha messo in campo forti azioni di solidarietà pubblica i numeri a cui guardo io sono quelli a cui i numeri che sono arrivati alla gente alle persone diciamo che hanno evidentemente di questa città apprezzato il piano di sostegno economico per i nuclei familiari per il 2021 ha avuto visto il pagamento delle utenze alle città alle famiglie più bisognose le utenze dell'acqua dell'uce dell'acqua della locazione per un ammontare di 630 mila euro e più le misure per la solidarietà alimentare hanno avuto 450 mila euro abbiamo avuto azioni per la menza scolastica i scuolabus in ultimo la missione 12 a cui nessuno ha fatto riferimento ben 4 milioni dove ci sono dentro azioni per i diritti sociali le politiche sociali la famiglia la consigliera credo meni ha fatto riferimento all'istruzione io dal bilancio dal consuntivo vedo che oltre un milione di euro è stato stanziato per il diritto all'istruzione vediamo azioni anche anche per le politiche giovanile e le attività culturali quindi se mi posso permettere questa amministrazione in questo consuntivo questo è quello che vedo io dalla lettura del consuntivo vi ribadisco che non facevo parte dell'amministrazione lo scorso lo scorso anno quindi non ho fatto parte di questa azione politica così forte ma ha messo in campo azioni di forte solidarietà pubblica politica economica per la città la città ha votato il riferimento anche a questo bilancio quindi annuncio il voto favorevole del nostro gruppo essere democratici grazie posso solo dire una cosa io sinceramente non mi avventurerei proprio sul capo della solidarietà alimentare perché questo fondo è stato utilizzato nella mezza scolastica indipendentemente da venduto non ci avventuriamo consigliere se non ci sono altri quanti interventi consigliere farese prego facciamo silenzio consigliera Megna lasciate parlare il consigliere farese prego consigliere grazie presidente cercherò di essere brevissimo visto che il dibattito è già durato abbastanza saluto gli assessori e tutti i consiglieri presenti in realtà diciamo io ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi che ci sono stati e il lungo dibattito sul tema del bilancio devo dire che se mi fossi limitato ad ascoltare il trenore degli interventi di oggi sarei tornato a casa con la convinzione che il nostro ente è un ente in condizioni disastrose sul sull'orlo del precipizio finanziario con una sciatteria amministrativa imperante negli uffici e insomma quindi sarei tornato a casa molto preoccupato in quanto amministratore ma anche ma anche in quanto cittadino tuttavia diciamo fortunatamente ho avuto modo di approfondire la documentazione contabile che è stata fornita diciamo allegata alla proposta che delibera che ci accingiamo a votare e quindi ritengo opportuno ristabilire diciamo in un perimetro di verità quella che è la situazione contabile dell'ente poiché i numeri fortunatamente non mentono mai e molto spesso sono impietosi noi chiudiamo al 31 dicembre 2021 con un fondo di cassa di 23 milioni di euro partiamo dal 2019 con 12 milioni di euro di fondo di cassa che nel 2020 arriva a 19 e nel 2021 a 23 milioni di euro chiudiamo questo bilancio con un risultato di amministrazione di 28 milioni di euro quindi diciamo lo scenario così disastroso descritto non lo ritrovo non lo ritrovo in questi numeri la riflessione da fare è capire dove finiscono questi 28 milioni di euro di risultato di amministrazione purtroppo purtroppo finiscono per lo più in quello che è il fondo credit di dubbia di dubbia esigibilità e io su questo sinceramente sento di fare una riflessione politica che spero il consiglio possa condividere poiché con il cambio di determinazione del mezzo di determinazione del fondo credit di dubbia esigibilità sostanzialmente noi andiamo a determinare questo fondo valutando la percentuale dei 5 anni precedenti della riscorsione dei residui allora quello che mi chiedo nel momento in cui nel 2020 per larga parte del 2020 e per larga parte del 2021 per diciamo obblighi normativi nazionali sono state sospese gli accertamenti le azioni esecutive da parte del riscorsore del coattivo quindi sostanzialmente tutta la parte di recupero tributario è stata totalmente bloccata nessuna azione è stata posta in essere in questi due anni quanto è inquinato da questa situazione il dato di partenza per cui determiniamo il fondo credit di dubbia esigibilità a me sinceramente questa sembra una logica perversa in cui il governo mette le amministrazioni locali perché il governo da una parte ci obbliga a non recuperare i tributi in questi due anni e dall'altro lato ci obbliga ad accantonare delle risorse disponibili che abbiamo quindi a non poter spendere risorse che abbiamo in cassa perché non abbiamo riscosso i tributi a me sembra sinceramente questa è una logica veramente perversa e io penso che su questo le amministrazioni locali debbano fare debbano fare quadrato e far sentire la propria voce al governo sono sicuro insomma che il sindaco anche in seno a lanci farà sentire le voci di questi disagi che viviamo perché è inconcepibile una dimensione di ente locale che diventa sempre più un riscossore l'ente locale deve rispettare gli equilibri di bilancio l'ente locale deve accantonare risorse noi abbiamo 20 milioni di euro in cassa e non possiamo spenderli perché lo Stato ci obbliga ad accantonare le risorse in un certo modo nel mentre il governo si diverte a diciamo accelerare sul dedito pubblico con bonus e aiuti vari di cui sinceramente non se ne comprende la vera utilità mentre il ruolo dell'amministrazione lo ritengo che sia molto più incisivo perché l'ente locale è l'interfaccia diretta del cittadino il cittadino si interfaccia con l'amministrazione comunale per le problematiche che vive quotidianamente e sarebbe sicuramente più utile dare la possibilità alle amministrazioni locali di intervenire in tal senso quindi questa è una diciamo una riflessione una concezione politica che mi sento di fare e che spero possa essere condivisa altro diciamo io ritrovo ancora degli altri elementi positivi quindi ho davvero difficoltà a ritrovare questo scenario disastroso perché se guardiamo il saldo della gestione di competenza è positivo per quasi 10 milioni di euro se guardiamo la contabilità economica quindi andiamo a prendere il conto economico il risultato di esercizio è positivo per un milione e 100 mila euro se guardiamo l'indebitamento dell'ente notiamo che dal 2019 ad oggi è diminuito di 6 milioni di euro se guardiamo quella che può essere diciamo la spesa cattiva per l'ente locale come possono essere gli interessi passivi vediamo che sono diminuiti rispetto all'anno scorso di oltre 100 mila euro se andiamo a guardare un altro fattore strutturale che caratterizza purtroppo gli enti locali cioè quello dell'anticipazione di tesoreria in molti casi è un fattore strutturale perché si determina una divergenza fra la fase delle uscite e la fase delle entrate per il comune il comune non ha attivato anticipazioni di tesoreria cosa che è stata abusata notevolmente in passato ma che è appunto una condizione diffusa nella maggior parte nella maggior parte degli enti locali quindi insomma io ritengo che la politica di bilancio portata avanti sia stata una politica attenta corretta purtroppo condizionata da quelli che sono gli obblighi normativi che costringono le nostre capacità di spesa e di intervento io diciamo non facevo parte della precedente amministrazione sono stato eletto in consiglio quest'anno questo è un bilancio che per 10 dodicesimi diciamo è fatto dalla precedente amministrazione che è stato poco dato positivamente dagli elettori senza dubbio perché ci siamo sottoposti al giudizio dell'elettorato insieme all'amministrazione ma un bilancio a cui darò in modo convinto il mio voto favorevole con diciamo le considerazioni politiche su una normativa contabile e fiscale degli antilocali che ho fatto precedentemente grazie grazie consigliere Faresia consigliere Zanone prego grazie sindaco precedente assessore e colleghi consiglieri mi aggancio a quello che ha detto il consigliere guerra anch'io mi dichiaro non ho un buon rapporto con i numeri mi limiti solo e soltanto a dare un valore alle relazioni che accompagnano i vari bilanci consapevole di ciò mi affido e mi fido come è stato già in passato la precedente conciliatura l'assessore Terluka consapevole e quindi continuo a farla anche per i prossimi i prossimi bilanci a questa decisione ci sono arrivato tre ordini di motivi uno è che considero l'assessore Terluka come una figura super non è un politico io la posso anche considerare tale quindi mi fido anche per questo secondo perché quello che svolge in questo ruolo è il suo lavoro lavoro di tutti i giorni tutti i giorni ha a che fare con i numeri con i bilanci e il suo pane quotidiano terzo punto e non è l'ultimo perché ogni qualvolta si deve procedere all'approvazione di questioni legate ai bilanci viene in audizione nell'apposita commissione a rispondere alla domanda ai quesiti posti da tutti noi ma soprattutto dai consiglieri di opposizione lasciatemi fare una battuta ma la battuta non è evidentemente come finiscono le audizioni l'assessore dovrebbe fare il pienone di favorevole però capisco ragioni varie consiglieri di opposizione che votano contrario una frase una locuzione un termine usato dal consigliere Miceli è la sciatteria nel 2016 proprio per quel termine sciatteria abbiamo dovuto dichiarare il dissesto sì nel 2016 siamo entrati noi quindi per quella famosa sciatteria di cui ha parlato il consigliere Miceli ci siamo trovati e oggi ci troviamo a fare questi salti pindarici proprio per queste ragioni quindi concludo faccio la dichiarazione di voto favorevole al rendiconto a nome personale e il mio gruppo rappresentato anche dal consigliere scrittore poeta dell'Ipsis grazie grazie consigliere Zanone se non ci sono altri interventi siamo al voto segretario prego procediamo al voto Mastella Clemente Barbieri Italo Capuano Assente dell'Ipsis Luca sì De Longis Raffaele sì De Lorenzo Giovanni contrario De Mercurio Adele favorevole Estasio Rosa contraria Parese Francesco Giuseppe favorevole Fioretti Floriana contraria Francese Mara sì Giorgione Assente Greco Alboino favorevole Guerra Rosario favorevole Piannelli Loredana favorevole Lauro Vincenzo favorevole Martignetti Alfredo favorevole Megna Giovanna contraria Micheli Angelo contrario Mignone Maria Carmela favorevole Moretti Angelo contrario Palladino Marcello sì Anunzio Umberto sì Parente Renato favorevole Perifano Luigi Diego contrario Petrone Luisa favorevole Ricarello Antonio sì Piccaluga Luigi Assente Scarinzi Luigi sì Sguera Vincenzo assente Tomacello Annalisa favorevole Barricchio Barricchio Letizia Barricchio assente Zanone Giovanni ok ok due tre quattro cinque sei sette otto cinci dici 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 venti favorevoli e sette contrari l'immediata eseguibilità eh sì con venti favorevoli e sette contrari il punto approvato condiamo l'immediata eseguibilità come sopra per alzata di mano bene d'accordo approvato i lavori sono terminati buon lavoro a tutti e buona giornata grazie 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 grazie